La spalla a sinistra e sposto la ballena a cambiare il peso. Va bene? La faccio venire ancora avanti, io rimango ancora fermo. Quando venire avanti, dentro la campagna. No, non dentro, non è necessario andare dentro. Anzi, mettiamo il piede fuori, soprattutto, lo rende. Qua, va bene qua. Ok? Ora, adesso, in un movimento, in un cambio di peso, cambio di direzione, quindi, sinistra a sinistra, ok? Rimaniamo sulla sinistra, tutti e due. Ci siamo? Ora, io vado indietro con la dentra e la ballena linea, vado con la dentra, la fiamo all'interno del mio corpo, ok? Ora, sposto la sinistra, largo la sinistra, e lei viene avanti con la sinistra. Io, adesso, rimango fermo, appoggio tutto sulla sinistra, e faccio il modo per il ballenino a raccogliare sulla destra. E così è camminando. Ci siamo? Rivediamo ancora. Qui? Sì. 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 Grazie.